Io e mia sorella abbiamo un passato. Una strega ci ha quasi uccisi. Ma quel passato ci ha resi più forti. Avevamo assaggiato il sangue, sangue di strega. Ma non ci siamo più fermati. Mi chiamo Gretel. E lui è mio fratello Ansel. Io non vi permetterò di dirmi cosa fare. Il metodo migliore per uccidere una strega. Decapitarle sembra che funzioni. Io lo odio. Nelle ultime due settimane, cinque bambini sono stati rapiti. Una strega non esce così allo scoperto. Questa non è una caccia alle streghe. Qui si tratta di qualcos'altro. Dobbiamo trovare quei bambini. Cominciamo con questo. Ammazziamo qualcosa. Vedo che hai avuto il mio invito. Hanno preso mia sorella. Gretel! Questa è nuova. Così! Buongiorno, splendore. Dimmi che non è vero.